Si è svolto questa mattina il taglio del nastro del primo Rambaldi Lab nella città di Lamezia Terme presso il polo tecnologico della città della Piana. Ad effettuare il fatidico taglio la dottoressa Daniela Rambaldi, figlia del compianto maestro degli effetti speciali di Hollywood, Carlo Rambaldi, alla presenza della dirigente scolastica la dottoressa Patrizia Costanzo e del direttore esecutivo della fondazione Carlo Rambaldi, il dottor Giuseppe Lombardi. Il format Rambaldi qui alla Lamezia Terme. Sì esattamente, il format Rambaldi Lab qui alla Lamezia per dare l'opportunità ai ragazzi di conoscere non solo chi era Carlo Rambaldi e la sua arte ma dar loro la possibilità di sperimentare soprattutto a coloro che si sentono portati per l'arte degli effetti speciali di sperimentare e magari appassionarsi a tal punto di intraprendere questo campo cinematografico. Tante altre materie nelle corde della fondazione culturale Carlo Rambaldi per tanti altri esperimenti come quello odierno. Beh, oggi abbiamo iniziato con la Masterclass che parla della storia degli effetti speciali, quindi i primissimi effetti speciali fino al digitale e poi il pomeriggio si inizierà con dei workshop di concept design, un set in miniatura cinematografico con la stop motion. In programma tante attività didattiche che riguarderanno delle Masterclass sulla storia del cinema e degli effetti speciali cinematografici, delle Masterclass dedicate al concept design e alla storia del disegno. Daniele Procacci, disegnatore e concept artist al Polo Tecnologico di Lamezia Terme. Sì, grazie, intanto grazie, grazie Calabria, grazie Lamezia, grazie al Polo Tecnologico perché abbiamo visto questa accoglienza fantastica. Siamo qui per il maestro Carlo Rambaldi, per onorare il suo lavoro. Io da buono studente, da buon disegnatore non potevo non mancare, quindi grazie dell'invito siamo qua. Le Masterclass sul disegno e sulla storia del concept design? Sì, faremo una serie di giornate, sappiamo che ci sono tantissimi studenti, cerchiamo di fare in modo che ci sia più persone possibile che ci seguano e quindi saremo presenti con il nostro lavoro come disegnatori per farvi vedere che comincia tutto da un foglio bianco e da una matita o da un pennarello perché alla fine sono questi gli strumenti di base per il disegnatore. A coincidenza fortunata siamo presenti proprio il primo giorno delle Masterclass nel giorno del compleanno di Topolino ufficialmente sebbene Topolino sia nato il 16 gennaio 1928 dalla penna di Walter A. Elias Disney o Walt Disney come lo conoscono tutti e da Ubi Iverx che era il partner originale di Disney, oggi ricorre la prima apparizione video, Steamboat Willie, 18 novembre 1928 quindi tanti auguri Topolino e niente, benvenuto in Calabria. Poi ci saranno delle attività laboratoriali con la creazione di un set in scala con tecniche di riprese che saranno la stop motion e la clay motion. Abbiamo avuto questo riscontro eccezionale tant'è che veramente sono venuti dei ragazzi anche a ringraziarci pubblicamente dicendo che loro si sentono molto distanti da tutte queste tecnologie che vedono come applicabili soltanto in America e riconoscono che avere questa opportunità in Italia è una cosa veramente rara, unica praticamente e gli dà una possibilità di imparare qui qualcosa che oggi giorno in effetti se non vai all'estero è molto difficile da imparare. Quale sarà tutto l'iter dei suoi insegnamenti all'interno di questi 15 giorni al polo tecnologico di La Mezzia Terme? Dunque durante le mattine si terranno queste masterclass che esamineranno tutte le categorie di effetti speciali sia da un punto di vista storico sia da un punto di vista prettamente tecnologico e poi nel pomeriggio seguiranno invece dei laboratori di stop motion, claymation e set design perché realizzeremo delle miniature snodabili quindi con armatura, calchi in gesso, stampi, controstampi e tutta una serie di accorgimenti tecnici che saranno indirizzati alla creazione di un vero e proprio cortometraggio in stop motion. Le attività proseguiranno fino a sabato 30 novembre, allora quando è previsto un open day per pomeriggio di sabato 30 novembre con la scuola aperta al pubblico di visitatori per poter osservare i lavori dei ragazzi. Questo primo percorso con la fondazione Rambaldi e la Rambaldi Promotions qui al polo tecnologico di La Mezzia Terme? Allora, in premessa dico che per noi è un onore avere la possibilità di offrire ai ragazzi una masterclass e una giornata come queste e quelle che seguiranno con persone così altamente qualificate ed è un'occasione che giova a tutti i ragazzi indipendentemente poi dalla partecipazione ai laboratori innanzitutto perché riteniamo fondamentale far conoscere la figura di Carlo Rambaldi a tutti i nostri alunni perché come si sa prossimamente sarà intitolata con una cerimonia ufficiale. Quindi per noi è un'occasione culturale elevatissima, non vedevamo l'ora che iniziasse ed oggi l'attenzione dei ragazzi, veramente non sempre ottenibile, ha dimostrato ampiamente la validità dell'iniziativa. L'iter per l'intitolazione dell'Istituto Polo Tecnologico di La Mezzia Terme a Carlo Rambaldi a che punto è? Siamo ad un ottimo punto, diciamo che il Comune di La Mezzia ha già dato il nulla a Oster, ha già fatto la delibera che serviva che è passata agli uffici scolastici regionali che hanno immediatamente provveduto a trasferire per le competenze necessarie dovute alla Prefettura e di oggi la notizia che la Prefettura ha accolto è che sta lavorando lacrimente perché nel più breve tempo possibile arrivi il nulla a Oster attraverso l'ufficio scolastico regionale della Calabria.